Ma insomma, c'è questo scandalo oppure no? Bersani ha detto davvero che D'Alema deve essere rottamato oppure un'invenzione dei giornali? Le cose in realtà sono molto semplici. Bersani ieri ha fatto un piccolo capolavoro diplomatico. Ha detto che sì, d'accordo, che la ditta dovrà decidere che cosa fare della candidatura di D'Alema, che spetta il partito, esprimersi sulle deroghe, eccetera, eccetera, eccetera. Ma allo stesso tempo Bersani ha omesso un particolare fondamentale, un particolare che avrebbe permesso a tutti i giornalisti e tutti gli osservatori di non notare che oggi Bersani di fatto sta scaricando D'Alema. E cioè, che cos'è che non ha detto Bersani? Una cosa molto semplice. Bersani, come spesso gli capi ultimamente, si è molto attaccato alle regole, è stato burocraticamente perfetto, però non ha detto una cosa che forse doveva dire per dimostrare in maniera concreta di voler difendere il massimo D'Alema. E cioè, Bersani non ha detto che lui considera importante nel futuro del partito il supporto e l'aiuto di Massimo D'Alema. Se Bersani avesse davvero voluto far passare il messaggio che la rottamazione di D'Alema è soltanto una stupidaggine che propone il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, avrebbe dovuto far passare questo messaggio. Questo messaggio non è passato. Bersani, come dicevamo prima, in modo diplomaticamente perfetto, ha detto la verità, ha detto che sarà il partito a occuparsi della ricandidatura di D'Alema, ma di fatto ha fatto sì che il messaggio che è circolato ieri sui giornali, sui siti, oggi ancora sui giornali, che continuerà a circolare nelle prossime settimane è che anche Bersani vuole mandare via D'Alema. È una cosa che Bersani non ha mai detto, ma è una cosa che fa molto comodo a Bersani sentirsi dire, perché in questo modo il segretario del Partito Democratico a poco a poco, e attraverso delle piccole autorottamazioni, delle rottamazioni che gli stesso fa senza dirlo, potrà provare a scaricare la pistola del sindaco di Firenze, costringere quindi tutti quanti a discutere, non più di mandare a casa qualcuno o qualcun altro, ma di parlare semplicemente di contenuti. Grazie.